Ciao, io sono Fulvio di Tecnologia e Cognition, sono CEO e cofondatore dell'azienda insieme a mio collega Giorgio e abbiamo creato AIDA, che è stato per artificial intelligence fatto come un'automobile, un progetto che nasce già nel 2012 e abbiamo un nome diverso all'epoca, abbiamo fatto crescere e abbiamo creato questa startup nel 2016 con l'obiettivo di pubblicare il prodotto che è diventato pubblico, già da marzo e dall'esterno. AIDA, cos'è AIDA? AIDA è una soluzione cloud, c'è una crescita cloud, siamo un paro che oggi ci vediamo adesso, che estrae le informazioni dai documenti e impara automaticamente a farlo per voi, quindi a contrario di tutte le soluzioni che succedono al momento, poi semplicemente dite AIDA cosa vi serve dal documento e eventualmente dove trovarlo e quella inizia in automatico potete essere a farlo dove volete utilizzando tutte le proprietà estratte dai documenti. AIDA 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 AIDA